Siamo a Macastorna in provincia di Lodi in uno dei più piccoli comuni italiani che ha però anche una grande particolarità perché Matteo Biancardi è uno dei principali allevatori di limusine d'Europa. Sì Gianni, benvenuto, ti ringrazio. Con la mia famiglia siamo allevatori da tre generazioni e oggi siamo uno dei più grossi allevamenti di vacche nutrici limusine in selezione d'Europa. Cosa vuol dire vacca nutrice? Vaca nutrice è praticamente quella tipologia di animale solitamente da carne, quindi non per fare latte, dove i vitelli rimangono con le madri fino a sette mesi che è il periodo naturale dello svezzamento e poi da lì prendono diverse strade che possono essere la riproduzione come l'ingrasso. Perché la limusine in questo momento ha un successo così grande anche in Italia? Allora è un po' di anni che la limusine sta crescendo come numeri in Italia. La nostra scelta è stata fatta soprattutto per due ragioni. Una di management, quindi avendo questi grossi numeri la facilità di parto è fondamentale. L'altra di marketing perché all'inizio si era pensato che nel nord Italia i più grossi ingrassatori sono di limusine o charolet e quindi abbiamo puntato sulla limusine. Ma questa razza la troviamo anche in centro Italia, in zone predecollinari, la troviamo in Sicilia, la troviamo in Sardegna, in zone dove l'allevamento da carne può rappresentare veramente un'alternativa valida per un'azienda agricola. Assolutamente, io penso che la vacca nutrice abbia un grandissimo spazio in Italia perché comunque noi siamo grossi importatori di vitelli, quindi se riusciamo a produrli in Italia è molto meglio. E abbiamo una grandissima zona nel centro sud Italia dove ha delle potenzialità per poter incrementare ancora di più il numero di vacche. Ecco, un'altra particolarità della tua selezione genetica è quella del gene Polled, cioè perché tu hai degli animali che naturalmente sono privi di corna. Esattamente, dal 2009 abbiamo cominciato ad approcciarci a questa genetica senza corna dove abbiamo avuto dei riscontri ottimi sia per una questione di benessere animale, in primis due anche di sicurezza per gli operatori, ma da quella parte di clienti che utilizzano i vitelli per ingrassare anche un'ottima qualità della carne. Quindi potrebbe essere un elemento in più per catturare il consumatore perché tu, fra le altre cose, sei anche un ristoratore. Sì, noi abbiamo una società che fa ristorazione, quindi chiaramente la carne è nostra e anche lì abbiamo visto che questa tipologia di carne è più apprezzata. E poi l'ultimo appuntamento, 11 giugno, se qualcuno fosse in zona Maccastorna, qui farai una grandissima festa per celebrare le limusine insieme ad altri allevatori e far conoscere questo animale anche a chi non l'ha ancora in questo momento in azienda. Quindi a che ora dobbiamo sintonizzarci l'11 giugno? Esattamente, l'11 giugno abbiamo deciso di fare questo Open Day dove invitiamo tutti gli amici della razza Limusine per poter confrontarci su diverse tematiche e stare un momento insieme anche dopo questo momento di ripresa che ci vuole. Perfetto, quindi chi fosse interessato trova tutti i tuoi riferimenti su internet per passare una bella giornata insieme a queste 750 vacche? Esattamente, 750 vacche per 1200 animali. Ne avete da lavorare quindi tutto l'anno, un po'. Bene, grazie Matteo, buon lavoro ancora.